Allora, e succede c'è, l'aurora, questa chi qua è, lei è una donna buona, buona, tante vera chi dice che lei ha la madre male, la mano del miele, e la suzana qua invece lei è una pettegola di una cattiveria che mai, l'angiolina, lei, non è che è curiosa lei ha visto che l'aurora, lei ha trovato un po' di con il supremo vest moroso che aveva per cercare poter dire il fiol che una volta l'on aveva venuto conoscere, e l'arriva facendo conto e l'ataca sòbita curiosea. Aurora! Ah, la Sivò, l'angiolina. Ma, ma si fai così, mi pare estorbata. Ah, nid, nid, a pinzeva. Ma non savi che poti confider con me, se c'è qualcuno che dà me, bene a volontà. Sì, non c'era. Ma, hai avviso che le scappi qui adesso? T'avevo sapere. E' il per questo, forse? Marco? Aurora, si avleva il Marco? Nid, per l'ora si scorrere. Ma la viva, ma devi... Certi, e pretendo che me ha un vasallo che non ne vuoi capire. Ma Aurora, ma non vuoi la vita sapere? Ma Marco, lei è un signore. Le vecch, la sol che fiole, e poi la di baiocchi, pure se, ma è qui cotta. Ma non vuoi nidda, lò. Non vergognarebbe da mettermi i uomini e i miei fiole. Cosa cotta le vostre uomini? Non lo sapeva più. Voi, guardi ai vostri interessi. Ma la nostra e te, se ne aveva un po' di soddisfazione di baiocchi, ma... ma in dove lì va bene. Ma... e Patrici? E vostro uomini? Non sa niente tutto questo so? Non ne sa ancora. Oh, sul, va ne sa vei? E cadrà che voi avlive d'estate addirittura in sacco un Marco. Ah, ma bisogna dire... No, 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 no. Non vuoi che mi veniva a mettere la confusione qua? Pre vostro uomini? Ma s'avlive che si è mi bene. S'ha metito la confusione qua. Ma bisogna sentire anche su pare, eh? Un n'è parec tenne. Me ha nofat n'hiitat mea. Me sta aglutent, perché cosa succede n'hiitat mea. E non vuoi che vuoi ne metterai gente a ferit camì. Em pot dire ingraciè invece. Cap consell per la vostra roba. Ah, sì? Sì. E allora che sia la prima, l'ultima volta che venim camì. Adem di consell. S'ha metito i fura? Le propi quel che fas. Ah, metito i fura? Perché adesso vinti una senyora. Sì? Eh? Eh? Ah, ma mi è stacca la mia gassetta? Quel che ho in te cuore. Alla anche la lingua. Ah, la lingua. Una vita sicura. Alla io e alla drulla. Ma non camì. Andi fuori a Ciacarone. In tutto che la porta le verte. Mi nasciamo a me. Ah voi. Avvi di cuore vi. Andi fuori a voi. E qui finisce questa scenetta. Così si tolgono il grembiale, ritornano nella vita normale. Noi abbiamo preparato un piccolo programma di poesie in dialetto. poesie in gran parte allegre. Però cominciamo con una che a Daniela sta molto a cuore. Avvi conti in te che scane sa viva. Qua costrata dei modi ad lavorare. Cioè di fare cose che bisogna fare. In Romagna lo fa già. In cooperativa. E un'estecolo di Ravenna che sta in strada. L'esteprema. Pioprema che in Cardiva. Qualcora lo si vedeva e lo si sentiva. Insomma. E non sbrassati. E a soli con i piedi. L'inviò la nonna. Con un sterto farana. Da ciò, da freschi. E a che spaz con i vas. La mamma. La vuoi di la succedere. La mamma. E va. E taglia la spuenta i quadretti. E non us insegnare di mettere il compasso. E il bordello. I astrepp. E i fu. I caplet. I caplet. Vergine dei rosieri. Immaculata. Voca che non sia la nostra volontà. Fasì che la mi fiola maridea dalle pombabà. Quell'è tanto. Quell'altà d'astea. Quell'altà dalle pombabà. Ma raccomand madonna doloreda. Necletter raffiola. Che non s'avessi da svie. Andei da zent vorn a quel cuceda. Che l'ha nato un sogno. Per la sua donna età. Passa tre mesi. L'incontro su cunieda. Che l'ha fermé in piazza. E su fragi. E la madonna. Estava contenta. Che l'ha fermé in piazza. 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 quello che è successo, la vera verità probabilmente non so se capirò seria la mia guardia la mia squadra e poi la mia smuola un gran scappazzo se avrò già detto mica dal buiari dal mio virtù io sono fatta e qui a dar sono lavoratori, onesti e bli bel, c'era trasparente compagnum veder e bo dat nì mai tanta compagnia e io ho solo un difetto e so bu se a dar e adesso leggiamo a tre voci di Domenico Smeraldi fa fi e la minghina fa fi e la minghina is falcorni però isli fai in un mod con un spò di quel da mord, da cuart ognuno l'ha una cassetta che qualche sgara vi metto una garnella che fomentò come un salvadaniere le tramandana e dì fa fi minghina le pass la suvintò e i fuc più ordi avlegnervi il cassetti avlegnervi parla di chi chiede di due un po' più in tessù isciò di quirci dal due cassetti dretta quella di fa fi la era squisima e poi garnelli e poi garnelli ad quella della sua moglie me è sostegno ma con fronte a te ti ha me da scusare minghina la rispondola su minghina soddisfatta ma tutti che furmi in tocca io maniè per tre quattro in temuma della guerra dindò scapeva il caro e mi pataca ma è che da tant'ep l'era so in sil un bel dè o l'ho mandato a me a sapere ha tago una notizia dalla zoo le rive tu moi cui dica che ne so ma no ma no ma come si fa le mie marei ma avut che sapere la fedega del bugei com'è la fatta venire in paradiso e poi di bo di giusto e di preciso possa serta la curota un qui cadò un po' mica resta e tra ragione eh mi marei te da fè sabere che infatti giudizi no non c'è mai sbagliato in stichez a navic non sono i moi c'è carona cattiva come lui buceadra e potisterda come un mollo allora l'aveva scappa del controllo in terra tutta e dè la baccaeva e per far spesso la notte la sornaceva un magnacor malvagio un turmato tutta è vera che sono morto una città può dire che questo che in berca lì è morta che lei è per turmintare a cacaronte e in tutta prisa a quello è per sbarcare e che le ha detto signora che liberate e si immagina quello che la madre dirà tutta quanta nessuna era che la farà una qui su cui strada farà il bot perché il mio bris manda il nome del lot ma per dire la verità è un uomo però lì diceva tutto sbagliato ascoltami marei stiamo da sentire ormai da qui non si può più tornare in e non è che se fosse te sei caccio per te e mi sapere per tutta l'eternità ma sai che con la sua massa forte l'hanno fa morire inferta un'altra volta no no per evitare pesa e noves tuori piuttosto em trasferes in purgatori